Come in cita scolastica, 20-30 anni dopo, ecco Walter Banzi appena arrivato a Barcellona e naturalmente l'avvocato Romeo, eccolo, mio fratello Daniela che sta a cellulare con nessuno Siamo a Barcellona, oggi è venerdì 26 settembre 2008, ancora c'era il Grimaldi Cruis, Barcellona Siamo appena arrivati, piove, e che ore sono? Scusate? Le 16, ok? Ciao ciao!